Musica 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 Questo giorno abbiamo fatto occhi al teatro facendo un cartellone circolare perché il teatro come lo si vede si vide è sempre il teatro quindi questo maestro possiamo girare come vogliamo e vediamo sempre la stessa cosa io ho visto attori come Enzo Moscato Lalo Dovini, Ettore Bassi da apporto imbarazzati rispetto a questo domando perché è difficile dire che cos'è il teatro ognuno ha dato una risposta diversa perché ognuno di noi nel proprio cuore ha un'idea di teatro e voglio ringraziare chi ci sta autando in questa sfida perché a noi è stata l'opportunità di dimostrare di essere un centro di produzione Occhi al teatro nuova stagione teatrale per il San Nazaro che con il suo centro di produzione tradizione e turismo ha aperto lo sguardo a diverse dinamiche per cui tanto teatro di tradizione ma anche contemporaneo e a volte ritornano i cult riproposti a teatro grande teatro, tanto teatro tutto il teatro che volete tutti gli sguardi del teatro Occhi al 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 teatro Grazie a tutti